Quanto ricordo di Assorri e che cosa la lasciano? Una ferita profonda per il Partito Democratico, per tutta la comunità dei democratici, una ferita che determina un vuoto in una realtà come quella del Lazio in cui Bruno aveva costruito tutto il suo percorso da amministratore, un percorso prevalentemente legato alla capacità di rappresentare il proprio territorio, i bisogni delle persone, anche delle persone più umili. Questo rapporto quasi fisico col territorio è stato un tratto che ha saputo portare in tutte le sue esperienze istituzionali alla Regione, al Senato, nell'impegno di direzione politica e questo dato è un dato che non può che indebolire oggettivamente la comunità del Partito Democratico e poi naturalmente c'è la riflessione sul gesto estremo, sulla scelta così estrema di porre fine alla propria vita che naturalmente interroga tutti noi sulla capacità di ascolto, di relazioni in questa società, in questo momento. Un grande spiacere, un avversario politico con il quale ci siamo scontrati anche su molte idee, ma un uomo capace di portare umanità anche nella politica, quindi lo ricordo con tanto affetto.